Alfonso parliamo dei dolci nataliti perché comunque i vostri sono conosciuti, hanno una storia. Che cosa c'è di novità? Novità nessuna perché abbiamo puntato sui dolci tradizionali che sono quelli dove siamo negli anni diventati un tantino bravi e sono apprezzati dalla nostra clientela e quindi prediligiamo soltanto migliorarli di anno in anno. Quest'anno abbiamo utilizzato dei prodotti diversi che hanno dato una grande soddisfazione ai nostri clienti tipo sui crusti l'abbiamo lavorato su delle farine fatte a macina anziché su delle farine normali e il risultato, devo essere sincero, è strepitoso. Sono anni che compriamo del miele biologico e anche esso dà una qualità eccelsa al prodotto finito. I panettoni quest'anno li abbiamo prodotti con la lievitazione naturale pertanto riteniamo siano decisamente più buoni e questo è il risultato di quello che sono gli sforzi anche perché abbiamo anche quest'anno investito oltremodo in tecnologie. Aspettiamo soltanto che quest'anno finisca, porti via un po' di scorie negative e ci lasci un risultato che è quello soprattutto della pace e della salute per tutti. Chiaramente il panettone è il più venduto? No, noi abbiamo ancora il risultato delle susumelle che sono l'articolo in assoluto che noi vendiamo meglio equiparato poi dalla pitta che resta il nostro dolce di tutto l'anno ma che in questo periodo in regalo è ben gradito anche perché noi abbiamo fatto una confezione in latta molto carina e molto gradita soprattutto per chi la regala a gente che sta fuori perché il ricordo di Crotone resta non solo nel sapore ma anche in questo piacevole ricordo. Il panettone resta un prodotto che noi abbiamo messo in commercio da quattro anni e la soddisfazione è quella che chi lo assaggia lo gradisce.